Si fingevano dipendenti dell'acquedotto o agenti di polizia locale per tuffare gli anziani e sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Ivrea. Sono due cittadini di etnia assinti di 43 anni e di 39, disoccupati, pregiudicati, fuggiti a bordo di un'autovettura dopo aver derubato con reggire una pensionata. È accaduto ieri mattina a Samone quando i carabinieri della centrale operativa della compagnia di Ivrea sono stati allertati per un furto all'interno di un'abitazione, dove era stata segnalata la presenza di alcuni soggetti che, qualificatisi come dipendenti dell'acquedotto comunale appartenente alla polizia locale, con il pretesto di dover verificare la presenza di metalli nelle condutture e dopo essersi introdotti nell'appartamento e aver distratto l'anziana, le avevano rubato una piccola cassaforte contenente il denaro e numerosi gioielli, dandosi poi alla fuga alla guida di un'autovettura di colore scuro. Dopo aver prontamente attivato le pattuglie in servizio per l'ostrativo nella giurisdizione, un equipaggio del nucleo radiomobile ha intercettato subito dopo lungo la provinciale 222 in veicolo sospetto con a bordo i due soggetti che cercavano di allontanarsi a velocità sostenuta e li hanno inseguiti. La fuga si è protatta per diversi chilometri. I fuggitivi, giunti in prossimità del comune di Banchette, hanno urtato improvvisamente contro un muretto sul cilio della strada. Abbandonando il mezzo è provato a direguarsi a piedi. A questo punto sono stati inseguiti raggiunti dai militari che li hanno arrestati. All'interno dell'auto è stata trovata la cassaforte in precedenza sottratta con tutta l'aria furtiva.